Per il secondo pezzo io ho pensato, ho scelto una canzone di Luigi Tenco, che lui ha scritto giovanissimo, Tenco è morto giovanissimo ma ancora più giovane, ha scritto una canzone che si chiama Vedrai Vedrai, dedicata a sua madre. E allora ho scelto dei bambini per aiutarmi a fare il coro, in questa canzone molto bella e che penso voi conosciate. Siete pronti? Cantate bene, aiutatemi. Quando lo sei, tu ritorni a casa, non hai neanche la forza di parlare. E non guardarmi ad un po' la tenerezza, come fossi una bambina che è rimasta delusa. Se lo so che questa non è certo la vita che hai sognato un giorno per noi. Vedrai, 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 vedrai e cambierà. Forse non sarà domani, un bel giorno potrà mirare. Vedrai, 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 vedrai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.